E' solo circa l'ottava volta che tento di disinstallare Smiles e poi finisco per reinstallarlo di nuovo, quindi direi che facciamo un... Clash. Voglio prendere Ra. Dov'è? Dov'è Ra? 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 Me too. Uppwatch. 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 Kamari. Bravo. Sapete che sarà un problema? Odino di merda. E' sempre un problema odino di merda. I'm fucked it up. Innanzitutto... Non mi è andato bene. No, 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 dai. Non si appartiti male io, ma perché miseria? I'm the best. Danana... Dananana... Dananana... Ciao, ciao, bro. Sempre da tutti i meteoriti di coso. Damn. Uh, get rekt. Sii, tor... Oh dear, you rock! Sai, sai cosa vuoi eh? Che puttana? Sei venuto davvero? Minchia! Puttana! Oh 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 oh! Cos'è? 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 Oh mio dio! Aiuto! 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 I'm so useful! Dai 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 dai! Mole! C'è una potevi anche regalarme perché davvero mi sto sentendo un elemento molto importante della squadra, però... Save! Save! Ho ucciso delle persone! C'è una! isión favourite Dai! Quello era uno snipe! Malissimo era! No. Save! Quindi per quello chieno, che chiacchierare! Urca merda Vai Che cazzo Mi ha fatto mille Prendiamo niente E sono direttora In positivo Sono un membro Degno della società Voglio una skin per Mercurio Ah shit Ecco il ticchino Grazie Dai cosa Come Dai cazzo Vieni qua Merda Dai vieni qua Non morire per aver fatto questa kill Me lo merito Me lo merito completamente Yes Let's do this Eh L'ho vinto io Yes Guarda che l'ho barra sopra Che poca fiducia Avete in Ra? Partita un po' finestra Oh bella Non mi ravo lui Scusamente è freddo Ci sono Periodici intervalli di tromba Porco Adio Aiuto 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 Yeah Ma che cazzo sono sti scatti che fa Susanoi? Non lo capisco Allora Alla 3 Che fa? Colpo in tono Colpo in tono E poi fa lo scatto E poi anche il trasporto E come hai avuto all'inizio che li sei salvato? Cosa? Era skin Oh ma dove cazzo spunta sta testa di merda? Oh ma dai Ma si ma muore Alvin guardalo Fa schifo la merda Che cazzo com'è? Che cazzo è? Comunque potranno spiegarmi gli stiti dei trasporti di coso qua? Niente ha uno scatolo se ti prende con la nuvoletta Utilisportarsi in la testa Porta sul posto Ok Io non so giocare con bellone Odine è così ok Non potrebbero decolirlo no? Ma dovrebbero potenziarlo un po' Non riesce a shottare i mire ancora Devrò fare un po' di più Ma andiamo a potenziare lo scudo o la frusta? La frusta per un copro di vita Un what you say Vabbè L'altra Per un attimo pensavo che tu fossi riuscito a prendere un'altra sender su un guardian Voglio un minion da lancio Lancio Tutti Minion da lancio Via Adesso gli lancio un minion E lo prende Quanto si prova a lanciare i minion? Abbiamo vinto Finalmente Grazie